Salve a tutti, sono Claudia Budo, volontaria del Centro Sudi Futura, progetto Franco Basaglia, con sede a Trebisacce. Con l'ordine di servizio straordinario dell'8 febbraio 2021 vi illustreremo dell'importanza di internet, siccome siamo anche vicini alla ricorrenza della giornata mondiale dedicata all'uso positivo di internet, che si celebrerà il 9 febbraio di ogni anno. Allora, quest'ordine di servizio ricordava una campagna di sensibilizzazione dell'uso di internet e dei dispositivi. Partiamo col fatto che le origini di internet risalgono al 1969 e veniva usato soprattutto per questioni militari. Poi dal 1991 il team fece in modo di far arrivare internet nelle case, diciamo, di tutto il mondo. La rete ha dimostrato una sua incredibile potenzialità, specialmente in questo periodo di pandemia, per restare in contatto con i nostri cari, per studiare, tramite anche la didattica a distanza. Di fondamentale importanza è lo smart working, che ha permesso a molte persone di non perdere il lavoro e anche a noi volontari di svolgere il servizio civile in modo da continuare e di andare sempre avanti. Ma internet ha talmente tante meraviglie e purtroppo nasconde anche delle cose negative. Come tutte le cose positive ci sono anche le cose negative. Non contando il fatto che c'è sempre la minaccia della nostra privacy, dei siti che richiedono l'accesso ai nostri dati personali, carte di credito. Ma ciò non toglie che noi possiamo sensibilizzarci all'uso di strumenti forti, perché così come c'è la possibilità di una truffa, ci sono anche siti che ti aiutano a fare in modo che questi tuoi dati non vengano rubati. Beh, non possiamo di certo ignorare i lati positivi e i lati negativi. Ogni cosa, il positivo e il negativo, ci mette in contatto, ci aiuta a lavorare, a continuare di lavorare, di anche mantenere i rapporti con persone che stanno lontane da noi, indifferentemente dalla pandemia. Per non parlare dei fenomeni anche che si possono verificare online, come cyberbullismo nelle scuole o violenze di genere, i giovani non devono essere mai lasciati da soli con l'uso di dispositivi da soli. Quindi occorre che sia le istituzioni che le famiglie siano unite contro questo comune amico-nemico, definiamolo così, perché così come ci aiuta magari con i ragazzi nella diattica a distanza, così può anche farli sentire ancora più soli.